Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca, parliamo di coronavirus. In base al testo del governo stiamo lavorando ad una ordinanza da ieri sera, sarà una proroga inserendo altri elementi della nostra esperienza. Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia. Il nostro modello da indicazioni giuste ha aggiunto Zaia, ma soprattutto dobbiamo dire che questa settimana sarà una settimana cruciale. Abbiamo i primi numeri negativi, ma è fondamentale non abbassare la guardia. Ci stiamo preparando alla riapertura, ma con i criteri per evitare l'effetto Hong Kong, dove hanno riaperto con troppa velocità e leggerezza e hanno dovuto riaprire poi la quarantena. Siamo preoccupati in generale perché questo continua a confermarsi essere un virus, diciamo, importante. Lo vedete anche dai casi di isolamento, dai casi di positività. Questo ci dà anche una dimensione della dimensione del problema. Continuo a dire che stiamo lavorando a un'ordinanza. Da ieri sera c'è la possibilità di lavorare in base al testo del governo. Sicuramente stiamo ragionando di proroga, forse inserendo ulteriori elementi, che nascono anche dalle esperienze di questi giorni. Mi mettono i panni del cittadino, dei cittadini che sono a casa, che ci ascoltano, che vedranno i vostri servizi e che ci leggeranno. E dicono, ma, stanno calando i ricoverati, stanno calando di qualche unità e dell'ambiente, sì, perché ancora le restrizioni. Ora, diciamo, nella fase, ve l'ho detto in anticipo, per cui, come si può dire, abbiamo dato dimostrazione che il modello funziona e ci dà indicazioni giuste. Io ve l'ho detto ancora la scorsa settimana, la prossima settimana sarà la settimana che si darà la direzione. Nella settimana è cruciale, lo state vedendo, avete visto che in termini non sospetti, vi avevamo detto che sarebbe stata cruciale. Ci sono i primi numeri negativi sulle terapie intensive e sui ricoveri, però è fondamentale non abbassare la guardia. Non vorrei che qualcuno, preso dall'eroismo, cominciasse a pensare che è finita, non è finita. Nella giornata di oggi, su attivazione della protezione civile, due venivoli del gruppo esplorazione aeromarittima di pratica di mare, una TR-72 e una TR-42, hanno trasportato una delegazione di 64 medici volontari in supporto al personale sanitario delle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Piemonte e Val d'Aosta, particolarmente impegnate nella lotta all'emergenza, attualmente in corso e ad accompagnare la delegazione, sono intervenuti il ministro per gli affari sociali Francesco Boccia, il sottosegretario del Ministero della Salute Sandra Zampa, il commissario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere Domenico Arcuri e il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli. A partire dalla giornata odierna, la Polizia di Stato concorrerà nell'attività di sanificazione delle strade di Padova, d'intesa con il Comune Acegas APS. L'attività verrà svolta utilizzando un veicolo idrante della Mercedes con capacità di 8 mila litri in dotazione al secondo reparto mobile per azioni antisommossa. Il veicolo condotto dal personale specializzato idrantista e normalmente utilizzato in occasione di servizi di ordine pubblico, ma per la circostanza è stato modificato dai tecnici dell'officina del secondo reparto mobile in modo da ottenere un maggior effetto di nebulizzazione. Acegas ha fornito la soluzione igienizzante per le strade. Nel pomeriggio alcune zone della città sono state lavate, come via Cavazzana, Prato della Valle, Piazza del Santo e anche la zona antistante, l'ospedale civile. È bastato un sito particolarmente accattivante associato ad un prezzo imbattibile. In pochi giorni sono piovuti sui suoi conti correnti centinaia di bonifici per decine di migliaia di euro, ma delle mascherine nessuna traccia. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Torino nel corso di una operazione che ha portato alla denuncia di un imprenditore di Vercelli, commerciante nel settore del bestiame. Non mancavano neanche le offerte per ordini di minimo 500 mila pezzi. Il prezzo scendeva a 0,90 centesimi cada una. In un attimo oltre 200 farmacisti sono finiti nella trappola di questo imprenditore delinquente. Oltre 250 le persone raggirate, tra questi appunto farmacisti, medici, infermieri, associazioni di volontariato e ancora più grave alcuni enti locali. Ad ogni reclamo sulla mancata fornitura di mascherine la giustificazione era sempre la stessa. Il cargo all'aeroporto di Caselle arriverà tra qualche giorno. Abbiate pazienza. Nulla invece è mai arrivato dalla Malesia. È morto all'ospedale Sant'Orsola di Bologna un detenuto positivo al Covid-19. È la prima vittima tra i reclusi in Italia. È quanto si appresta da fonti penitenziarie l'uomo che era agli arresti domiciliari presso il nosocomio. Un italiano, 77enne, era ricoverato da giorni nell'unità operativa di medicina d'urgenza del Sant'Orsola. Durante il ricovero era stato sottoposto a tampone naso faringeo che aveva dato a, purtroppo, esito positivo. Però altri due detenuti del carcere, sempre di Bologna, sono risultati essere positivi al coronavirus e sono in isolamento positivo anche un agente della Polizia Penitenziaria, sempre dello stesso istituto. Altri quattro detenuti entrati in contatto con quelli ora in isolamento sono in domiciliazione fiduciaria, cioè in quarantena. Nel carcere di Bologna, sempre secondo quanto informa il Garante, sono stati effettuati 150 tamponi, 92 su persone detenute e 58 su poliziotti. Andiamo a Pavia perché alcuni giorni fa a Voghera, in provincia di Pavia, con la collaborazione dei colleghi del luogo i finanzieri di Gorizia sono giunti al sequestro di oltre 17 mila litri di un cosiddetto gel igienizzante per mani abusivamente riportante sulle 21.600 confezioni, un'azione disinfettante, germicida e antibatterica però mai sottoposta alla validazione delle qualità del Ministero della Salute. L'attività ha preso spunto dal sequestro effettuato a Monfalcone, in provincia di Gorizia, del carico di un autocarro che trasportava diversi cartoni di gel igienizzante in flaconi denominato detergente igienizzante ML800 Sanit Gel, destinati alla vendita nel territorio isontino. Ha detto questo sequestro a causa delle carenze di qualità del prodotto si tentava il commercio ed è seguita poi la denuncia dei responsabili all'autorità giudiziaria di Gorizia per frode in commercio. Quest'azione avrebbe procurato un illecito guadagno stimato fino a 200 mila euro. E la Guardia di Finanza di Torino, che ha condotto le indagini coordinate dai magistrati Vincenzo Pacileo e Alessandro Aghemo della Procura della Repubblica, sta ora acquisendo numerose querele da parte di centinaia di persone truffate. Le indagini sono in corso e dal comando provinciale della Guardia di Torino si raccomanda di porre la massima attenzione nell'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Anche oggi purtroppo altri 30 feretri sono arrivati nel pomeriggio al forno crematorio del cimitero maggiore di Padova. Ricordiamo che ieri sempre al cimitero maggiore ne sono arrivati 25, sempre da Bergamo. Purtroppo il forno crematorio della città bergamasca è totalmente incapace di supportare la mole necessaria. Oltre all'Emilia Romagna, quindi anche Padova è impegnata a svolgere questo triste compito. Vediamo. Il crematorio di Bergamo in questo momento non riesce a supportare tutto il fabbisogno che c'è, quindi si sono dirette man mano le salme in altri crematori, all'inizio quelli più della zona emiliana perché c'è una stessa gestione e poi man mano dove c'è stata la possibilità di conferirli e quindi hanno chiesto a noi che avevamo dato da subito la nostra disponibilità dicendo che ci eravamo, che si rivolgessero a noi quando ci fosse stato bisogno, sempre nella speranza che non ce ne fosse e invece è andata così. Da ieri sera la torre campanaria del municipio di Padova è illuminata con il tricolore italiano, segno di unità e speranza per tutti noi, lo dichiara il sindaco di Padova Sergio Giordani, ma anche i privati cittadini, ma anche la nostra emittente televisiva hanno voluto testimoniare la vicinanza tra chi maggiormente è stato colpito proprio dalle morti di coronavirus esponendo la bandiera italiana. Questa mattina ricordiamo la città di Padova appariva ancora blindata nelle strade e particolare attenzione è stata prestata soprattutto dalle forze dell'ordine, sia Polizia, Carabinieri e Finanza, ma anche dalla Polizia Municipale affinché il rispetto delle disposizioni venga mantenuto. La situazione di difficoltà attraversata dalle strutture alberghiere anche nella nostra città a causa dello stop a quasi ogni attività per l'emergenza coronavirus è concreta e molto pesante. Nei giorni scorsi Federalberghi ha chiesto al Comune di Padova la possibilità di differire il versamento dell'imposta di soggiorno. Il prossimo 15 aprile infatti scade il termine per versare l'imposta pagata dai turisti alle strutture alberghiere. Una cifra significativa che lo scorso anno era stata sempre nel primo trimestre di 479.597 euro. Oggi gli assessori Antonio Bressa del Commercio delle Attività Produttive e Andrea Colasio del Turismo e Cultura hanno trasmesso alla Presidente di Federalberghi Padova Monica Soranzo l'accoglimento della richiesta. L'istituzione di un fondo speciale o la possibilità di recuperare risorse dalle tante donazioni dei privati fatte alla Regione per l'emergenza sociosanitaria in atto per salvare una realtà presente in Italia, non soltanto in Veneto ma anche in parte in Piemonte che non rientra in alcun provvedimento del Governo. Ebbene, stiamo parlando delle IPAV e quanto propone Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia, già Presidente della provincia di Padova e delle province del Veneto e Sindaco di Selvazzano rivolgendosi proprio al Governatore del Veneto, Luca Zaia, che come sottolinea Soranzo sicuramente interverrà in tempi rapidi e precisi con l'efficienza e la concretezza che gli è riconosciuta a livello nazionale nella gestione di questa emergenza. Vediamo. Le IPAV sono soggetti giuridici pubblici, non possono accedere quindi allo strumento della Cassa Integrazione, non possono quindi dare la possibilità ai propri lavoratori di avere una garanzia. Ecco, allora, dopo questo scoglio quasi insormontabile, mi sono sentito oggi di provare a lanciare un'idea di istituzione di un fondo speciale regionale, questo è un appello ovviamente alla Presidente Zaia e a tutta la Giunta regionale, alimentando questo fondo che possa trovare risorse magari o le donazioni che arrivano dai privati molteplici in questi giorni di vario tipo, considerato che si tratta di un aspetto sociale perché i IPAV sono nel settore sociale, oppure trovare dei capitoli di bilancio nello stesso settore sociale che possono essere rimodulati nella priorità e dando priorità a questa situazione. Ecco, è un grido d'allarme, è un grido d'aiuto, è un'idea che pongo in essere perché credo che vada data una risposta a tutti quei collaboratori dipendenti di queste IPAV che hanno garantito un fantastico servizio fino a ieri e dietro di loro ci sono tante famiglie. Stiamo parlando di tantissime, di diverse centinaia e centinaia di lavoratori e stiamo parlando di diverse e tantissime realtà venete che hanno caratterizzato la crescita favorevolmente in modo efficace dei nostri giovani ragazzi fino a ieri. Grazie. A seguito del parere favorevole della conferenza Stato-Regioni, la Ministra alle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato in queste ore di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il decreto interministeriale proposto dalla stessa che prevede l'erogazione nel quinquennio 2019-2023 di 398 milioni di euro a favore di 38 comuni in Italia che nel biennio 2018-2019 hanno registrato i più alti livelli di inquinamento da PM10 e biossido di azoto. Alla città di Padova, arrivata sesta, spettano 10.667.298 euro per l'acquisizione di mezzi ad alimentazione alternativa, elettrica, metano o idrogeno e le relative infrastrutture di supporto. Questi fondi, in questo momento di grande crisi legata al Covid-19, sono anche una boccata di vero ossigeno per il nostro territorio. Il Presidente dell'Associazione Barcinesi di Padova, Fu Jean Bin, ha donato alla provincia di Padova dispositivi di pulizia, igiene e mascherine per l'emergenza coronavirus per un valore di 7.300 euro. Altro materiale è stato consegnato sempre dalla stessa associazione anche ai comuni di Vigonza, Ponte Sanicolò, Rubano e Saonara. Il materiale sarà destinato innanzitutto a tutti gli operatori impegnati in prima linea per questa emergenza e a tutte le realtà che a livello provinciale hanno segnalato carenze di dispositivi. Vediamo. l'Associazione Barcinesi di Padova per questa importante donazione che adesso destineremo immediatamente. Guardate c'è un grande segnale che ci arriva, un grande segnale di solidarietà che arriva dalla comunità cinese impegnata, oltre misura per sostenere anche il popolo italiano per il superamento dell'emergenza offrendo materiali, offrendo strumenti di protezione per i cittadini. E quindi è un grande segnale, un grande segnale di unità perché solo assieme ce la possiamo fare per superare questa emergenza. Domani, venerdì 3 aprile, partiranno le procedure di fermata dell'alto forno dell'impianto di agglomerazione del generatore del vapore ausiliario della ferriera di Servola a Trieste. Tali passaggi costituiscono la fase terminale della fermata complessiva dell'area a caldo. L'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile del Friuli-Venezia-Giulia, Fabio Scoccimarro, ha spiegato le fasi conclusive del processo avviato già lo scorso 27 marzo con l'ultimo carico della cocheria dello stabilimento siderurgico di Trieste. La regione Friuli-Venezia-Giulia fornirà ai centri di assistenza tecnica, alle imprese del terziario artigiane alle Camere di Commercio, una task force formata da 10 tecnici della Direzione Centrale Attività Produttive per consentire di evadere le pratiche in arretrato e procedere speditamente con la concessione dei contributi. Lo ha reso noto l'assessore regionale alle attività produttive Emilio Bini, nel corso della videoconferenza con i vertici delle Camere di Commercio e con i centri di assistenza tecnica dell'impresa del Friuli-Venezia-Giulia. Dobbiamo rispondere celermente, ha detto Bini, alle esigenze di liquidità, sfruttando la nuova norma che consente il 90% di elargizione anticipata. Oltre ai nuovi 7 milioni e mezzo messi a disposizione dalla regione Friuli-Venezia-Giulia per le locazioni, dalla ricognizione appena effettuata, i centri di assistenza tecnica e le Camere di Commercio hanno ancora 60 milioni di Euro di disponibilità che possono essere iniettati subito alle imprese friulane. Ammonta circa 600 mila Euro l'importo complessivo messo a bando dalla CEI, iniziativa centro-europea per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Rendono noto l'assessorato alle politiche europee, il centro di informazione Europe Direct del Comune di Pordenone. I progetti sono finanziati al 100% fino ad un importo massimo di 40 mila Euro. Una volta ricevuta la comunicazione di approvazione del progetto, si può ottenere un anticipo fino all'80% della quota finanziata, il rimanente a saldo. Sono tre gli ambiti di azione, sanità, telemedicina, educazione e di e-learning, nonché il supporto alle micro, piccole e medie imprese. I fondi sono destinati all'acquisto di attrezzature per facilitare il lavoro intelligente, compresi hardware e software, all'organizzazione di seminari online e all'acquisto di servizi di consulenza per facilitare l'innovazione. Le domande, scalicabili sul sito www.cei.int, vanno compilate in lingua inglese e inviate entro il prossimo 9 aprile. Il gruppo FIVA, ambulanti di Confcommercio Udine, informa con il presidente Cristiano Zabeo che i mercati in questa fase di emergenza da coronavirus sono aperti solo per la filiera agroalimentare, anche nei comuni che in precedenza avevano chiuso totalmente le aree mercatali con l'applicazione di ordinanze più restrittive. Come categoria, assicura Zabeo, continueremo a fare la nostra parte per contrastare il rischio di diffusione del virus, offrendo nei mercati settimanali un servizio locale da approvvigionamento di beni di prima necessità e ancora deconcestionamento dei supermercati e limitando di fatto gli spostamenti intercomunali. L'area di sviluppo di comunità del Servizio Sociale dei Comuni della Carnia, che da anni lavora con le scuole con un progetto che si chiama Stare tutti bene a scuola, ha pensato di far sentire la propria vicinanza ai bambini e alle famiglie, nonché agli insegnanti, preparando del materiale multimediale. Tra i materiali proposto vi sono anche dei link che rimandano a dei video multimediali dove si possono trovare delle storie ed alcune proposte per creare giochi o per fare delle attività. Tra questi video anche le avventure di Chicco e Nanà, protagonisti delle storie proposte durante i laboratori realizzati nelle scuole per l'infanzia. Glesi e Furlane è da sempre con i friulani a difesa della loro dignità e dei loro diritti anche perché il nostro simbolo, parliamo del Friuli Venezia Giulia, l'Aquila, è scolpita sia nell'anima che nella pietra. Si conclude con questo messaggio del video che l'associazione ha voluto realizzare in occasione della festa della patria del Friuli, infatti ricordiamo che il 3 aprile del 1077 l'imperatore Enrico IV concesse alla patriarca Sigeardo il ducato del Friuli. Questa data segna anche la nascita dello stato patriarcale friulano. Il video è stato girato nel Duomo di Venzone, luogo d'incontro di Glesi e Furlane e simbolo della ricostruzione e della rinascita di tutto il Friuli dopo il terremoto del 1976. Torna stasera alle ore 21 l'appuntamento con il Tarlo, condotto in studio dal collega Alberto Salmaso. Il tema di questa sera sarà emergenza mondiale, solidarietà a metà. Interviene d'anno ovviamente al nostro appuntamento Rocco Bordin della direzione provinciale di Padova di Fratelli d'Italia, Marco Schesaro sindaco di Cadoneghe, Elisa Venturini vice sindaco di Casalserugo, Francesca Ormanni del Movimento 5 Stelle, Alessandro Bisato sindaco di Noventa Padovana e ancora Antonino Pipitone di Italia Viva. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale. Grazie per averci seguito. Vi diamo appuntamento come sempre sul nostro sito www.caffetv24.it per rimanere costantemente aggiornati e ovviamente guardate anche i nostri social. Grazie a tutti.